Un mistero irrisolto, un caso ancora aperto a distanza di 50 anni, una vicenda mai archiviata, macchiata di ipotesi e supposizioni che hanno più volte messo in discussione l'intero impianto accusatorio. La macabra vicenda del mostro di Firenze continua infatti a tenere viva la cronaca di ieri e di oggi. Nella giornata di sabato si è svolta presso la libreria Mondadori Bookstore di Borgo San Lorenzo la presentazione del libro Al di là di ogni ragionevole dubbio e del docufilm La zona oscura del documentarista Paolo Cochi. Cosa c'è al di là di ogni ragionevole dubbio? C'è la certezza di un caso molto controverso che dura tantissimi anni, del quale siamo testimoni e non abbiamo una verità. Un incontro partecipato moderato da Saverio Zeni di Ok Mugello e con un'interessante digressione sul tema della donna nei delitti del mostro curata dalla giornalista Chiara Elci. Una lettura critica a quello che l'autore ha voluto dare sulla vicenda avvalendosi nella sua ricostruzione degli atti giudiziari e di rilevanti testimonianze di chi quella storia l'ha vissuta a vicino per portare alla luce elementi troppo spesso lasciati nell'ombra dove il Mugello riveste un ruolo da protagonista. Ritengo sia un punto importante di questa vicenda ed era secondo me una località dove il mostro aveva qualcosa o un'abitazione o comunque che conosceva bene queste località qui perché è una realtà molto distaccata da quella fiorentina e determinati posti dove ha agito sicuramente li conosceva.